Il viaggio inizia dal capoluogo, centro ricco di valenze storico-culturali e naturalistiche, tra antichi quartieri e una lunga spiaggia sabbiosa, raggiungibile in un quarto d'ora di bus delle linee PQ e PF che partono da Via Roma, appena fuori dalla stazione. La città vanta numerose attrazioni, quali la necropoli punica di Tuvixeddu, che si trova a due chilometri dalla stazione. Lungo il percorso si trovano il panificio Porta, con pani e dolci di ottima qualità, e poco dopo la locanda dei buoni e cattivi, una bella osteria che coniuga con grande capacità impegno sociale e buona cucina. Poi c'è l'anfiteatro e le altre vestigia romane, a un chilometro e mezzo, le fortificazioni e le torri medievali. Quindi gallerie e musei, tra cui l'archeologico nazionale, a un chilometro e trecento, dove ammirare i giganti di Monte Prama. Per una passeggiata tra Fenicotteri e Aeroni, i mezzi pubblici conducono anche al parco naturale regionale delle saline di Molentargius, a circa 5 km, bus delle linee PQ e PF. Lasciando la stazione per abbracciare la città, si respira l'eleganza delle architetture affacciate sul porto, a partire dalla monumentale sede del comune, in stile neogotico, con decori liberty, che conserva gioielli, reperti archeologici, simulacri e tele. Salendo poi per via Sassari c'è Sadomusarda, che è la tappa giusta per una panoramica sulla cucina regionale di paste ripiene e sulle carni di asino, capra, maiale e bue rosso del Montiferru. Prendendo invece per largo Carlo Felice, in tarda primavera tinto di viola dai fiori delle Iacarande, ci si può infilare nelle viuzze di Marina per scoprire l'anima popolare ed etnica della città. La prima strada a destra, via Sassari, porta a una piacevole sosta caffè, magari accompagnata da un dolce tipico, la pardula per esempio, nella pasticceria Dulcis all'incrocio con via Baille, mentre svoltando in via dei Mille, la bottega Sapori di Sardegna apre una finestra su ottimi prodotti tradizionali e formaggi ben selezionati. Lasciandosi il mare alle spalle, lungo via Concezione, si arriva al complesso gotico catalano di Sant'Eulalia e all'annesso Museo del Tesoro. Uscendo dal lato via del collegio, dopo circa 200 metri, ecco la chiesa barocca del Santo Sepolcro, da visitare la cripta dove è conservata, sulla volta, un effigie con la raffigurazione della morte. Poco distante, prendendo per via Dettori, trovate il Sardissimo, ideale per l'aperitivo o per acquistare materie prime biologiche e produzioni tradizionali come le paste realizzate nel laboratorio sottostante, ma anche salumi, formaggi, mieli, confetture, vini, birre e liquori. Percorrendo un centinaio di metri si arriva a Piazza Ienne, l'area della Movida. In corso Vittorio Emanuele, una via pedonale costellata di tavoli all'aperto per la cucina di pesce, sostate a Ilfanà, che sa catturare sia per la gentilezza della padrona di casa, sia per le portate di Burrida, gamberi alla vernaccia e linguine all'astice, o all'osteria di Claudio Ara, su Zilleri, per piatti di mare e di terra, che si rifanno alla tradizione. Impossibile lasciare la città senza salire alla Torre dell'Elefante, percorrendo le scalette di Santa Chiara, magari fermandovi per dare un'occhiata all'enogastronomia dell'omonimo mercato civico del quartiere Stampace, aperto dalle 7 alle 14, chiuso naturalmente la domenica. E poi via Cammino Nuovo e al Bastione Santa Croce per godere dello splendido panorama che domina la città. Scendendo verso la stazione, lungo viale Regina Margherita, si incontra il bistrò Pomata, celato dietro un anonimo portone, che propone piatti realizzati con pesce fresco locale.